ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video benvenuti da tel aviv sì in questo momento mi trovo a tel aviv mi chiamo samuel candurro faccio l'imprenditore e vendo prodotti su amazon e perché fondamentalmente sei a tel aviv non lo so ho preso questa decisione tipo tre giorni fa al mezzanotte faccio ma perché mi dovrei fare un viaggio ho preso il biglietto sono partito e quindi mi trovo in questo momento qui mentre in viaggio pensavo ho detto ma devo fare un video su youtube dove parlo appunto di un viaggio però non voglio parlare dei viaggi in sé per sé fra i blog le solite cose che non hanno senso secondo me vorrei appunto parlare del viaggio per farvi capire appunto se il viaggio ha senso farlo a questa età o però non senso farli magari in futuro quando appunto magari sei più economicamente predisposto allora parlo per la mia esperienza iniziato a viaggiare quando avevo 18 anni in realtà il mio primo viaggio sono stati in india nel 2018 ero povero in canna non avevo nemmeno un euro nel conto in banca poi dopo un annetto da fidanzato ho avuto una grandissima botosta d'amore ed è per questo che poi ho fatto un viaggio in america e quel viaggio mi è servito perché sarà un viaggio di introspezione avevo finito la scuola e il liceo cioè liceo l'alberghiero quindi con questo cosa ti voglio dire ha senso viaggiare a 19 anni a 20 anni 18 anni ti dico da una parte ha molto senso perché fondamentalmente quando sono in america io non avevo nemmeno un centesimo ragazzi però partito con 500 euro e in america 500 euro ti durano un giorno e mezzo due giorni comunque e la cosa bella è fatto appunto che facendomi questo viaggio io ho capito e ho detto ok io sono qui in questo momento in america io in questo momento non ho nemmeno un euro sono veramente povero non ho niente ho detto ok io la prossima volta che andrò negli stati uniti ci voglio andare con i soldi grazie questa promessa l'ho mantenuta e ci sono andato due anni dopo perché poi c'è stato il covido nel 2008 19 20 21 22 nel 2022 ci sono riandato e sono riandato con ragazzi molti più soldi avevo tipo di circa 10 mila euro e avevo un lavoro tra le mani ok con l'appunto di vendere su amazon eccetera quindi questa promessa diciamo che avevo un mindset proprio nell'abbondanza un mindset nell'abbondanza dove pensavo dicevo che io oggi sono così io domani non sarò così io verrà in america con i soldi e lo farò e l'ho fatto non voglio dilungarmi molto su questa tematica perché magari ne parleremo però quello che voglio dirvi è questa cosa qua viaggiare ha senso sì ha senso viaggiare nel momento in cui secondo me dalla mia prospettiva non hai completa non sai cosa fare completamente la tua vita non sai niente cosa allora dirgli che in quel caso viaggio fatti magari un mese fuori fatti due settimane fuori fatti tre settimane fuori vai da qualche parte esplora il mondo metti le mani in pasta a qualcosa guarda comunque basta soltanto guardare perché nel momento che tu guardi e soprattutto la tua mente inizia a capire che nel mondo ci sono tantissime opportunità ecco che per una volta che torni nel posto dove vieni in italia dove sei eccetera lì inizia il tuo cervello inizia il tuo meccanismo creativo a creare e a produrre l'unica cosa che però poi non consiglio sono i viaggi fondamentalmente quando tu devi costruire ricchezza prendi e poi sperperi tutti i tuoi soldi e inviaggirli tu tra virgolette devi prendere i soldi devi pensare come se oggi ci sono e domani non ci sono quindi devi prendere investire 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 non prendere i tuoi cinque sei mila euro e sputtanarli e sperperarli così scusate che il mio padre si incazzo devi prenderli e poi pian piano costruire ricchezza il primo viaggio ci sta ti fai il tuo viaggio sabbatico per capire cosa vuoi il tuo anno sabbatico dove capire cosa vuoi fare vuoi iniziare a capire mettere le tue mani in basta va bene ok ma non appena che tu non appena tu guadagni non appena tu hai i tuoi primi soldi rimessi da parte non sperperarli non ha completamente senso tutti quelli che ti dicono eh viaggio conosci il mondo a questa età papapapà no ragazzi sono cose che non sono vere perché poi quelle che fanno questa fine cosa sono le classiche persone che poi a 30 anni a 40 anni o a 50 anni fanno una vita di tutto rispetto degna però che fondamentalmente questa vita che fanno è una vita sotto i limiti ok quando in realtà noi dobbiamo spingerci e andare oltre i limiti di questa vita detto ciò ragazzi questo video di oggi mi raccomando quindi riassunto brief di quello che vuoi dire se non avete capito nulla di quello che ho detto scusate e viaggiare si ha senso non appena tu non appena esci da scuola per capire cosa vuoi fare mettere le mani in pasta qualcosa si prendi e porta a casa tutto quello di un viaggio conosci persone fai quello che vuoi non appena inizia a capire cosa vuoi fare inizia a guadagnare inizia come dire e avere i tuoi primi soldi in banca eccetera dimenticati di viaggi questo non significa che non ti devi divertire ma dimenticati di spendere tutti questi soldi in viaggio perché perché un periodo dove noi dobbiamo costruire ricchezza quindi la ricchezza viene costruita poco a poco dopo di che puoi per fare quello che vuoi io al momento posso viaggiare se ha problemi sono molto libero economicamente non dico stranzata sono molto serio e molto trasparente in quello che faccio sui social e se ti va seguimi su instagram ci vediamo presto un bacio